Ciao ragazzi, eccomi qua, lo sono appena andato a ritirare dai miei, perché per motivi di lavoro non potevo farmi consegnare a casa ed è il Lego 76403, il ministro della magia l'ho preso su Amazon Germania, l'ho pagato 73 euro qua via il 99, quindi insomma, 73 euro con la spedizione quindi insomma c'è un bel risparmio, ecco francamente non è che l'ho tanto intenzionato a prenderlo perché non mi dice niente, ecco, non è che mi fa impazzire potevano farlo molto molto più bello, a meno che poi non usciranno delle parti aggiuntive per renderlo più grosso, perché il ministro della magia è molto molto più grosso ora non pretendo che sia identico, però almeno l'entrata un po' potevano farla, da dove arrivano loro, che c'è quella specie di passaporta dentro i bagni, in quel corridoio lungo, un pezzo del corridoio la statua non c'è soltanto quello vero, non c'è soltanto il mago, almeno che mi ricorda io ah no, a parte che questa è la versione è la versione è la versione del ministro della magia quando è stata presa in mano dai mangiamorte quindi la statua c'è del mago con sotto tutti i babani che tengono una specie di trono o qualcosa del genere se non mi ricordo bene, comunque più che altro mi piaceva molto per i personaggi i personaggi minifigure, ce ne sono tante qua dentro che non credo che le trovi da altre parti ora ce ne leviamo un paio, tipo la Ombridge tipo Ron, Hermione e Henry il mangiamorte gli altri vabbè, però ecco, una parte dolente che adesso vi faccio vedere, se è rimasto molto male è lo scatolone con cui mi è arrivato ora se riesco a farlo inquadrare che non cade tutto come potete vedere lo scatolone mi è arrivato proprio così era aperto bloccato con un po' di nastro trasparente e oltretutto tutto ha cattorciato quindi era completamente aperto non c'era il nastro di Amazon quindi qualcuno l'ha aperto io ho chiesto ai miei genitori a volte sai per curiosità o per sbaglio l'hanno aperto ma mi hanno assicurato di no quindi ho detto a Amazon che il pacco era ridotto veramente male è ridotto veramente male cioè questo è stato proprio aperto per vedere il contenuto poi si vede che il contenuto non gli interessava e ci hanno messo un po' di nastro trasparente ma perché oltretutto è stato consegnato da Amazon spedito da Amazon quindi sì ok corriere Amazon tedesco poi l'ha passato Amazon italiano però è stato tutto trattato da Amazon mi è andata bene che dentro a parte un vabbè quello purtroppo anche se compra Amazon Italia la scatola ha una piccola ammaccatura ma per il resto è a posto ma così veramente poi devo dire alla mia famiglia che è la prossima volta che vi faccio riprendere se lo scatolone è aperto così di rifiutarsi di riprenderlo vabbè torniamo a a questo allora ragazzi cosa vi devo dire cosa vi posso dire più che altro è questo c'è da parte il ministero della magia vedete la parte dove fa Harry per distrarre fa impazzire tutti i giornali che si attaccano a tutti i vetri secondo me è più bello all'interno che l'esterno ah qua c'è una specie di passaporta però che qua sotto non c'è incastra niente allora ecco qua come potete ci sono tutte queste figure qui e qui queste qui che c'è l'Humbridge Yaxley che credo che si trova solo qui a meno che non trovate la figura sfusa più Stickneys che non c'è non so se l'ho pronunciato bene comunque non lo ricordo quello che purtroppo fa anche una brutta fine Rancorn che è quello che è impressionato da Harry quindi c'è anche Harry secondo come solitamente trafaccia di Harry sicuramente sicuramente basta girare la testa e cambiare i capelli ma io lo lascerò proprio in versione mangiamorte poi c'è Mafalda Hopic Reg Catermall insomma sicuramente potete scegliere o la versione Hermione Harry e Ron o loro ma preferisco loro ce ne sono tanti la moglie di lui Arthur Weasley e il mangiamorte eh sì il mangiamorte e il vabbè avete capito no il bestio qua e niente ragazzi ora lo giriamo come potete vedere è così e infatti come vi dicevo come vi dicevo potete scegliere che versione mettere eccoci qua ragazzi mangiamorte scusatelo e dare a questo mangiamorte discernatore mangiamorte sono loro e niente ragazzi c'è poco da dire la scatola è bella grossa ora vi dico anche le misure 37 e mezzo 47 ho 78 cm di larghezza quindi diciamo c'è come potete vedere c'è l'ufficio dell'Humbridge beh inconfondibile qua dove c'è un lampolle che cadono cioè hanno messo insieme un po' vari film qua deve essere l'ufficio di 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 Waley il padre Arthur perché si vede che c'era la paperella almeno credo si 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 vede anche una foto di famiglia sia il suo e basta insomma sono questi si infatti vedete si vede anche di qua scusate Cambridge Arthur Weasley con la paperella forse l'arretto è più carino che il dado davanti poi cosa c'è qua questo deve essere l'ufficio credo dove l'inquisizione qua dove fanno i giornali insomma non c'è l'ufficio di Malocchia Moody almeno a vederlo così non mi sembra ah no 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 qua è dove c'è la passaporta non c'entra niente quello che ho detto io vabbè ragazzi adesso lo assemblo e vediamo cosa ne viene fuori ragazzi la scatola è stata aperta ci sono sette serie di buste sette numeri qua c'è il manuale e adesivi pochi bene o male adesivi pochi sono contento oggi gli adesivi allora vediamo il manuale di spazio allora davanti come vedete c'è sempre la foto del set costruito dietro no dubito che ci siano delle foto infatti c'è cose che a me non sono anche no ragazzi parte subito con le varie buste vedete sette buste sette numeri di buste sono una busta ogni numero non sono tanti pezzi in fondo ci sono i vari set vedete qua fa vedere che i vari set si possono dire tra loro francamente non capisco il motivo di mettere queste foto perché tanto questo set qui non si può unire col castello di Howard non c'entra niente poi si va beh gli attacchi c'erano ma cosa ci incastra se volendo per fare una continuazione il castello di Howard poi attaccate qui no francamente fa schifo la cosa ragazzi niente ora lo assemblo vediamo cosa ne viene fuori vi do la mia piccola opinione di cosa ne penso se mi è piaciuto o no ok va bene a fra poco bene ragazzi ecco qua l'ho appena finito lego 76403 il ministero della magia di Harry Potter allora allora cosa vi dico se mi è piaciuto o no ni carino pensavo peggio più che altro mi piacciono molto le minifigure che ci sono perché diciamo tante sono almeno non credo che ci siano in altri set adesso poi ve le faccio vedere certe le ho trovato in tanti set ovunque però certe no allora cominciamo io direi di cominciare dalla gabbina anzi no cominciamo proprio dalle minifigure allora quelle più particolari ora non mi ricordo i nomi quindi le vado a leggere vabbè posso anche andare a leggere francamente non mi posso ricordare i nomi di tutte allora il primo che abbiamo più stickness qualcosa del genere che è quello che è diventato ministro della magia dopo che se vi ricordate nel film uno degli ultimi se non l'ultimo lord voldemore lo mette come ministro della magia e poi ovviamente tanto dietro di lui c'è lord voldemore che tira le funi poi purtroppo fa una brutta fine non riesco a metterla a fuoco però ragazzi se ci riusciamo no non ci riesco comunque questa ha due espressioni poi c'è la seconda espressione i capelli lunghi la prima è quella un po' col sorriso poi c'è qual'altra poppa arrabbiata mi dispiace i ragazzi oggi non riesco proprio a metterli a fuoco ci riprovo un'altra volta ma non so come mai niente non ci riesco purtroppo ci riesco sempre quando poi mi serve non ci riesco comunque è questa già una delle minifigure più difficili da trovare almeno in altri set per ora non ce n'è la seconda è questa Yaxley quello che ha dato veramente del filo a torcere a Eriron Ermione con il suo codino due espressioni ma credo che la seconda non dovrebbe essere no non ha due espressioni ha solo questa espressione qua ok poi passiamo a lui che è quello che è impressionato cioè anzi prima vi faccio vedere questo vi faccio vedere per ultimo questo vi faccio vedere la doppia faccia allora vabbè c'è il dissenatore non ho capito perché gli hanno fatto questa specie di raggio nella mano ma dissenatore comunque ha fatto così così è nelle istruzioni così l'ho fatto poi abbiamo e dagliela questa telecamera abbiamo ah sì Dolores con il suo Patronus a forma di gatto e col medaglione con l'anima di Voldemort cos'era il medaglione di non era di Serpe Verde era il medaglione di Corvo Nero no Corvo Nero aveva il diadema non lo so comunque con il medaglione ora prendiamo va bene prendiamo subito Arthur Weasley nella valigia c'è una specie di mattoncino tondo a forma di ape Croft Hall la figura di un'ape non so perché e lui ha due espressioni una sorridente e una seria dato che siamo nel mistero della magia poi in uno di quelle film diciamo Arthur Weasley ha sempre arrabbiato ma il poveraccio insomma lo stavano anche pedinando lì insomma quindi non era felice felice poi passiamo un'altra a Mary Caterman senza bacchetta perché gli erano requisita l'entrata che era sottoichiesta non credo che abbia due espressioni non lo ricordo ma non credo proprio perché un'espressione felice non so cosa ah sì c'è due espressioni ma però francamente non una mezza sorridente che non mi non mi rappresenta niente perché lei proprio con l'episodio lì un'unica volta che l'ho vista poverazza di sorridente non c'è niente e ora passiamo a i personaggi pigliamo subito la femminuccia che è Mafalda Hop 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 Kirk vabbè Mafalda una impiegata del ministero della magia però in realtà sarebbe Ermione sotto pozione polisucco infatti se voi levate i capelli infatti se voi levate i capelli ecco qua girandola faccio l'anologirata sembra un filo dell'orore Ermione francamente visto che di Ermione no tante preferisco lasciare inversione lasciare la inversione Mafalda poi passiamo a Ron che è più simpatico francamente di Harry detta fra noi che è il marito di di Mary Catermall che vabbè è sua moglie Reg Catermall i nomi li leggo ragazzi ve ne non me ne ricordo ma già non mi ricordo il mio fruiamoci vada ricordato di sti nomi poi di personaggi visti una volta a Solau brevemente anche lui e in realtà è Ron sotto la pozione polisucco ed ecco Ron girate la faccetta ci cambiate i capelli e avete Ron e infine abbiamo Albert Runcorn mi ricordavo Alberto ma Albert Runcorn visto due volte una nell'ordine della Fenice mi sembra che va a cercare va insieme agli altri insomma quelli del ministero a fermare il ministro della magia a fermare il preside Albus Silente ma non ci riesce e poi è rivisto in questo film ma francamente sembra un po' uno scemo perché non mi sembra che parla neanche comunque se ci levate i cappelli ci mettete girate la testa ecco lì che adesso fuori Harry ok ragazzi le minifigure ve lo fate vedere tutte c'è questa qua qua ci sono delle lettere volanti apposta qui c'è la fontana con dei rospi che tiene su un mago d'oro che è sempre una minifigure e qua abbiamo la gabbina che è molto carina semplice e ora eccoci qua allora devo avvicinare la telecamera perché è molto 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 delicato spostandolo mi è già caduto e mi si è rotto ho dovuto riassemblarlo allora perché è attaccato qui da questi gancettini qua però questi qua sono tutti scomponibili facilmente quindi basta che voi lo alzate senza scomporlo e va in terra quindi ve lo dico se lo prendete lo spostate spostatelo sganciando i vari pezzi perché sennò vi va in terra allora cosa vi devo dire di questo vi dico subito le dimensioni tenete presente che è un po' storto cioè siamo sui 28 cm e siamo sui 32 cm d'altezza cosa 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 vi devo dire allora qua c'è questo trucchetto che ora vi faccio vedere mettete la minifigura qui ecco la mettete al contrario no ho sbagliato qualcosa io ragazzi vorrei averlo montato al contrario e arriva la minifigura scusate un attimo no è fatto così è fatto così poi e davanti c'è poco da vedere cioè non è che se grandi cose qui vedete c'è i giornali di Harry con scritto l'indesiderabile numero uno c'è tutte le finestre qua la finestra con i giornali che hanno tappato tutti i vetri perché Harry aveva fatto quella specie di magia per distrarre le persone lì e qui diciamo che c'è poco 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 da dire quando veramente non come potete si può agganciare ad altre cose e non so se spero di sì francamente che nel set del ministero della magia uscirà qualcos'altro da aggiungere per rendere un po' più bello perché francamente così com'è non è sto granché sono queste due colonne di uffici e questa specie di ponte è finito lì francamente il ministero della magia è bellissimo c'è nel film qui è striminzito ecco però è questo ora ve lo giro un attimo e vi faccio vedere com'è all'interno che secondo me è la parte più bella ecco qua ragazzi questo è il lato destro qui abbiamo l'ufficio di Dolores Umbridge come potete vedere si vede lontano un chilometro tutta rosa con le foto dei gatti è questa dentro cosa c'è va bene non ve lo sto a piegare comunque qua c'è un giornale che vedete anche di là bianco però con scritto no non è quello uguale a quello di Harry lo faccio vedere è un giornale credo che sia il giornale dove parlava dell'uccisione di Sirius Black potevano farci anche anche se l'occhio di Malocchio Mudi sappiamo che lei nell'ufficio c'era l'occhio di Malocchio Mudi che questo film era morto poverino all'inizio qua abbiamo Dolores Umbridge volendo potete mettere l'ufficio anzi così ce la metto anche non ci sta come ci sta non ci sta niente non ce la mettiamo comunque no volendo si ci sta storta non ci sta scusate ho perso anche il medaglione che vi dicevo che teneva in mano vabbè ma adesso lo recupero po' a che dire sotto c'è un ufficio con dei giornali con delle riviste ma non è la rivista del giornale che è uscito lì con con Harry ora vi faccio vedere un ufficio non so di chi non mi ricordo da parte del film e sotto ancora c'è il trabocchetto qua il giochino che mettete vedete mettete un personaggio e arriva questo è la parte destra qua al centro abbiamo una scrivania con una macchina da scrivere un foglio poca roba niente di importante ora mi sposto di qui eccomi qua ha acceso la luce perché forse si vede meglio qua abbiamo un altro di quei no qui niente qua abbiamo questi sistemi che se tu premi saltano i giornali ora non ve lo sto a premere perché tanto non ho capito l'importanza forse per quando scappano che fanno saltare in aria tutti i giornali ma non questa fare qui che sono le ampolline ricordate nel cos'era nel terzo quarto film nel quarto film forse quando tornano vanno al mistero della magia a recuperare la profezia su Harry Potter che fanno saltare tutte le ampolline hanno fatto questa parte qui che francamente non so cosa ci incastra comunque vabbè e qui abbiamo l'ufficio del padre a Weasley Arthur Weasley come potete vedere questo fosse l'ufficio più carino c'è la paperella di gomma c'è la foto di famiglia c'è la foto di un aereo che non ho capito cosa c'entra un orologio è l'unica mattoncina già stampata era quello dell'orologio e della radio dietro c'è una specie di radio mangia cassette una forchetta vedete un biberon è molto carino questa è la parte più carina è questa specie di arbarella non so cos'è molto 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 carino come vedete qua si sganciano facilmente quindi dovete stare molto attenti a portarlo ragazzi io li metto dritto la telecamera cosa vi devo dire io lo metterò no non lo metto così perché tanto si vede male lo dovete mettere girato perché sennò tanto gli uffici si vede un male uguale vabbè e niente io ho preso come vi avevo detto in Amazon Germania quindi ho pagato meno se no non so se lo prendiamo più che altro ho preso per i personaggi le minifigure perché francamente della costruzione qua poco mi interessa a parte quei due uffici gli ultimi due di Arthur Weasley di Arthur Weasley e di Dolores Umbridge e gli altri non è che mi fanno impazzire proprio no almeno che col tempo non esce fuori qualcos'altro da aggiungere che ci potrebbe stare allora può darsi che prende vita e diventa un po' più bello il ministro della magia così francamente non mi fanno impazzire ragazzi niente questo video finisce qua io ve l'ho detto l'ho preso su Amazon Germania conviene non lo so a me lo scatolone avete visto all'inizio del video come mi è arrivato tutto aperto con del nastro trasparente messo anche male quindi si potrà tranquillamente aprire e fregare il contenuto l'ho fatta arrivare dei miei genitori loro mi hanno assicurato che loro non hanno aperto anche perché non l'hanno mai fatto perché dovrebbero farlo e quindi sicuramente ho il corriere di Amazon tedesco il corriere di Amazon italiano vedendo che arrivava da Germania vedendo lo volume del pacco pensando che dentro ci poteva essere un computer un portatile o qualcosa del genere hanno pensato bene di aprirlo per vedere il contenuto stiamo in buona fede non volevano forse fregarsi il contenuto comunque il pacco l'hanno aperto e ci hanno aggiunto quel nastro lì trasparente che non è il nastro ufficiale di Amazon io questa cosa l'ho segnalata però mi hanno scritto se volevo restituirlo oppure no cosa restituisco la scatola dentro l'ho apposta ho detto di no però spero che ci stiano un po' più atenti dubito ma spero che ci stiano un po' più atenti vabbè ragazzi niente questo video finisce qui spero che vi sia piaciuto seguitemi se potete e lasciatemi un like e adesso appena un attimo faccio quel set non enorme però insomma abbastanza più grosso di questi sicuramente che mi porterà un po' più di tempo al prossimo ciao ragazzi